Grazie per la visione! Possiamo iniziare i lavori, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo webinar sulla legge di bilancio e la riforma IRPEF. Sono Paolo Girardo, commercialista abilitato alla consulenza del lavoro, insieme a mio padre Giampiero, appena 58 anni di professione, e mia sorella Gabriella, commercialista anche lì abilitata alla consulenza del lavoro, gestiamo lo studio di famiglia. Oggi siamo qui per affrontare due temi, devo dire, molto dibattuti e di grandissima attualità. Tutte le novità fiscali e sulla normativa del lavoro del 2024. È la prima volta che facciamo un convegno, un webinar, dove uniamo sia la parte fiscale, quindi del commercialista, bilanci, novità sui bilanci, le dichiarazioni dei redditi, e le novità su il mondo del lavoro, cedolini paga e consulenza del lavoro. Quindi questa per noi è un po' una novità, ma assolutamente opportuna, perché mai come in questo momento, le novità riguardano sia la parte del commercialista, sia la parte della consulenza del lavoro. Ringrazio per la disponibilità e la partecipazione e tutto il lavoro che c'è stato dietro in queste settimane di preparazione. La dottoressa Elena Gasco, Consulente del lavoro, Neomamma, ormai dai primi di luglio, che a parte qualche mese di assenza, poi grazie anche all'utilizzo dello smart working, è riuscita a non far mancare il suo supporto in questi mesi. E quindi grazie Elena anche per il tempo che hai rubato, diciamo, un po' alla famiglia per dedicarti alla preparazione di questo webinar e per la collaborazione in generale. E poi abbiamo invece la ragioniera Paola Carletto, che Paola ormai sei da noi da almeno 25 anni, quindi direi... Buonasera, 28. 28, 28, 28 per essere precisi. Paola, la tua storia è bellissima, perché tu inizi a registrare le fatture. Oggi sei diventata il punto di riferimento dal punto di vista fiscale dell'area, perché quando tutti abbiamo dei dubbi guai a dare una risposta senza confrontarci con Paola. Quindi direi che ci siamo presentati in maniera molto molto rapida e direi che possiamo passare al primo punto, che è la riforma dell'IRPEF. Se ne è parlato davvero molto, siamo arrivati proprio al dunque e quindi direi che lascio la parola alle nostre relatrici per iniziare. Grazie Paolo. Buonasera a tutti. Comincio io ad affrontare questo discorso, come hai detto tu, veramente molto discusso e sentito. Condivido le slide. Allora, le metto in modalità di presentazione. Ok, mi confermate solo che si vedono? Assolutamente sì, grazie. Finalmente siamo arrivati a un primo, perlomeno un primo passo di questa riforma. Il decreto legislativo è il 216 del 30 dicembre, che ha finalmente dato avvio a quello che è un po' il primo modulo della riforma fiscale. È un provvedimento che è in vigore dal 31 dicembre 2023 e che va a fare una prima modifica a quella che è l'assetto della nostra appunto regime fiscale ai fini IRPEF, che però non sarà strutturale. infatti tutte le variazioni che sono state introdotte col decreto legislativo 216 che vedremo questa sera sono in vigore per il 2024. Si dovrà attendere quindi o una conferma delle novità introdotte anche per il futuro, oppure comunque una variazione, altrimenti dal 2025 si tornerà quella che è la struttura originaria che comunque è attualmente rimasta. Andiamo quindi a vedere quello che ci aspetta quest'anno per questo 2024. Partiamo da quello che era la situazione fino al 31-12-2023. Ai fini IRPEF, appunto per la tassazione sul reddito, per il reddito delle persone fisiche, erano previsti quattro scaglioni con altrettante aliquote marginali. In particolare teniamo d'occhio i primi due scaglioni, cioè quello fino a 15 mila euro con liquida IRPEF 23% e quello tra i 15 e i 28 mila euro di reddito a cui veniva applicata un'aliquota marginale del 25%. Questo perché con la riforma per il 2024 cosa è successo? Il primo e il secondo scaglione sono stati uniti. Infatti per appunto quest'anno esistono solo più tre scaglioni. Il primo comprende i redditi fino a 28 mila euro a cui viene applicata un'aliquota IRPEF del 23%. Ciò significa che i possessori di redditi fino a 28 mila euro vedranno scontato un 2% di aliquota IRPEF sul reddito dai 15 ai 28 mila euro. Questo si traduce in un risparmio di 260 euro annui su appunto il reddito complessivo di 28 mila euro. Parimenti di pari passo con questa variazione c'è stata una variazione delle detrazioni per lavoro dipendente. Questa era la situazione fino al 31 dicembre 2023. Avevamo anche qua tre scaglioni. In particolare in questo caso teniamo d'occhio il primo, quello per redditi fino a 15 mila euro a cui spettava una detrazione di 1880 euro rapportato ovviamente ai giorni di lavoro annui. Nel 2024 resta questa suddivisione in base al reddito complessivo ma vediamo che la detrazione spettante per i redditi fino a 15 mila euro è stata incrementata di 75 euro. Spetta quindi per il 2024 una detrazione di 1955 euro anche qui da rapportare sempre ovviamente al numero di giorni lavorati nel corso dell'anno. Significa in questo caso quindi un aumento di 75 euro di sconto, detrazione vuol dire appunto una riduzione dell'imposta lorda sull'imposta lorda per i redditi fino a 15 mila euro. Quindi abbiamo da un lato una riduzione dell'aliquota IRPEF per i redditi da 15 a 28 mila euro e dall'altra un aumento delle detrazioni quindi un aumento dello sconto sull'imposta lorda per i redditi fino a 15 mila euro. Questa impostazione poteva incidere anche sul trattamento integrativo per cui è stata inserita una clausola di salvaguardia. Ricapitolo brevemente di cosa parliamo di cos'è il trattamento integrativo è quell'importo complessivo di 1200 euro annui che spetta ai lavoratori con reddito complessivo fino a 15 mila euro o per casi particolari anche dai 15 ai 28 mila euro che praticamente che pagano un'imposta quindi che hanno un reddito e che hanno un'imposta lorda superiore alle detrazioni di lavoro dipendente. Siccome le detrazioni di lavoro dipendente per i redditi fino a 15 mila euro sono aumentate si rischiava che una platea di lavoratori in particolare quelli che avevano un reddito complessivo da 8.175 a 8.500 euro non avessero più diritto al trattamento integrativo. Per questo motivo è stata inserita questa clausola di salvaguardia che dice che esclusivamente ai fini del calcolo del trattamento integrativo si terrà conto dell'importo di detrazione relativo al 2023 e non quello effettivamente aspettante per l'anno 2024. Una questione un po' macchinosa che serve proprio solo per salvaguardare una platea di lavoratori che invece se no si sarebbero visti ridurre il trattamento integrativo a fronte dell'aumento invece delle detrazioni. Per terminare la mia panoramica sempre io tratto sempre dal punto di vista gius lavoristico la materia una novità importante sempre introdotta dal decreto legislativo 216 è quella che riguarda la super deduzione per incremento occupazionale. Cosa significa? Che sempre per l'anno 2024 perché ricordo che queste modifiche sono in vigore per quest'anno e basta è stata introdotta la possibilità di maggiorare il costo ammesso in deduzione il costo del lavoro ammesso in deduzione del 20 o 30 per cento a seconda della tipologia di assunzione che si fa se vengono assunti nell'anno 2024 lavoratori a tempo indeterminato. I requisiti per accedere a questa super deduzione sono che ci sia nell'anno 2024 un incremento occupazionale quindi un aumento della media dei dipendenti nel 2024 rispetto al 2023 e che vi sia anche un aumento del costo del lavoro sempre nel 2024 riferito al 2023. Se questi requisiti sono quindi soddisfatti si potrà in sede di dichiarazioni di redditi di bilancio dell'anno 2024 quindi ne riparleremo nel 2025 si potrà portare in deduzione un costo del lavoro maggiorato del 20 per cento o del 30 per cento se le assunzioni fatte riguardano lavoratori in particolari categorie di svantaggio. Stiamo ancora in attesa di istruzioni in merito ma come detto posto che si tratta di un adempimento di cui avremo insomma che verrà applicato in sede appunto di chiusura di bilanci dell'anno prossimo abbiamo ancora un po' di tempo. Grazie Elena scusami se ti ho interrotto se puoi tornare sulla slide precedente per fare proprio un esempio numerico ecco il costo del lavoro è per fare cifra tonda 100.000 euro quindi il datore di lavoro ha avuto un costo di 100.000 euro in che cosa consiste l'agevolazione? L'agevolazione consiste nella possibilità di dedurre quindi di scalare come costo non 100 ma 120 in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2020. Quindi potete portare maggiori costi e quindi ridurre l'utile su cui poi vengono calcolate le imposte. Bene ottimo quindi seguiremo con attenzione nelle varie circolari che poi scriverai e metteremo sul sito di Elaboraconsul le varie novità e gli aggiornamenti e i chiarimenti su questo aspetto che sarà sicuramente importante. Scusami se ti ho interrotto ti lascio concludere. Non c'è problema tanto io avevo terminato la mia analisi sul tema della riforma IRPEF c'è altro da dire ma lascio la parola a Paola. Grazie. Grazie Paola quindi avendo affrontato gli aspetti gius lavoristici legati all'IRPEF. L'IRPEF lo si applica per le ditte individuali e le società di persone. Per le società di capitali nulla cambia perché si continua ad applicare l'IRES al 24%. Vediamo invece che cosa cambia per le ditte individuali, la società di persone e le persone fisiche che comunque fanno un 730 e quindi anche loro sono toccati da queste agevolazioni. Quindi Paola, a te la parola. Grazie Paolo. Intanto buonasera a tutti e rinnovo anch'io il mio benvenuto a questo incontro. Io condivido le slide che abbiamo preparato. Mi riallaccio un attimo all'area IRPEF, diciamo alle novità del 2024, facendo anche riferimento all'introduzione di una riduzione di 260 euro delle detrazioni IRPEF spettanti in relazione agli oneri sostenuti dai contribuenti per i quali normalmente fruiscono della detrazione del 19%. Questa franchigia che viene introdotta di 260 euro riguarda solo i contribuenti che conseguiranno un reddito superiore a 50 mila euro e la prima cosa importante da dire è che non andrà a toccare tuttavia la detrazione sulle spese sanitarie. Questo vuol dire che riguarderà un taglio della detrazione sugli interessi sui mutui prima casa, sulle polizie assicurative che vengono pagate per copertura da rischio morte o invalidità superiore al 5%, sulle spese universitarie o delle attività sportive dei figli. Quindi se facciamo un esempio, se una persona che consegue un reddito poco superiore a 50 mila euro e ha sostenuto oneri per i quali astrattamente potrebbe avere la detrazione del 19%, questa detrazione dovrebbe essere di mille euro, si vedrà abbattere questi mille euro di 260, quindi concretamente sulle spese di cui parlavo prima potrà avere una detrazione di 740 euro anziché di mille euro. Oltre alle spese sanitarie ho anche indicato altre spese che non vengono toccate da questo taglio, magari sono un po' più di nicchia e sono le detrazioni per erogazioni liberali e partiti politici e per i premi assicurativi versati a copertura contro eventi calamitosi. Qui parliamo sempre della sfera privata di un contribuente persona fisica. Proseguendo con la trattazione andiamo adesso a esaminare un po' la novità che è entrata in vigore nel 2024 riguardante le vendite dei fabbricati. La novità è che se su un fabbricato vengono eseguiti interventi per i quali si beneficia del super bonus e poi questo fabbricato viene venduto a partire dal primo gennaio del 2024 si può ricorrere a tassazione sulla differenza tra l'incassato e il valore di costo di questo fabbricato. Per fare capire un po' la dinamica di questa novità farei un piccolo passo indietro e farei un cenno a quello che è la tassazione sulle vendite dei fabbricati che c'è da anni e che attualmente c'è ancora. Quando si possiedono terreni o fabbricati e questi vengono venduti non sempre si paga IRPEF sul guadagno. In particolare se il fabbricato è posseduto dal soggetto da più di cinque anni così come anche un terreno agricolo è posseduto da più di cinque anni quando viene venduto non si paga alcuna imposta sul guadagno. Mentre invece sui terreni edificabili non c'è un numero di anni di monitoraggio. Indipendentemente dal numero di anni di possesso si paga sempre sul guadagno dalla sua vendita. Ci sono poi due casi particolari. Scusami se ti interroppo possiamo proprio fare un esempio numerico compro un terreno un fabbricato a 100 mila euro lo rivendo a... Allora compro un fabbricato preciso anche questo che se è la mia prima casa se io adibito prima casa questo fabbricato per la maggior parte del periodo di possesso anche in quel caso io non pagherò mai imposte e non pagherò anche nel caso in cui questo fabbricato mi è pervenuto per successione. Nell'esempio pratico quindi io se sei d'accordo parlerei di una seconda casa per esempio ho comprato una seconda casa e l'ho pagata a 100 mila. La rivendo dopo tre anni a 130 quindi non ho non ho oltrepassato i cinque anni di possesso di questo fabbricato e quindi sulla differenza tra 130 e 100 cioè su 30 mila io devo pagare le imposte. Poi diciamo che il contribuente ha due strade da seguire due alternative secondo la normativa ad oggi in vigore cioè può decidere di tassare questi 30 mila in dichiarazione dei redditi e lì andrà quindi a far cumulo con gli altri suoi redditi oppure può seguire la strada di usufruire di una tassazione sostitutiva fissa del 26 per cento sempre sul guadagno dei 30 e versarli praticamente all'atto di vendita il giorno dell'atto di vendita questa la maggior parte delle volte è più conveniente no perché se noi guardiamo le scaglioni perché prima illustrava Elena sono comunque le minime aliquote sono comunque già molto vicine al 26 per cento e quindi quando i redditi si alzano un pochino conviene adottare la strada del 26 per cento per non andare su diciamo nell'imposizione in dichiarazione molto bene qual è la quindi questo è il questa è la dinamica che c'è ancora oggi e che era già in vigore in passato la novità del 2024 è che se io ho questo mio fabbricato di cui parlavamo prima il mio fabbricato seconda casa lo possiedo da sei anni quindi da più di cinque anni però mi viene l'idea di far fare una ristrutturazione di questo fabbricato e posso anche usufruire del super bonus perché ne ricorrono i requisiti faccio fare l'intervento e appena ho finito di fare la ristrutturazione trovo una buona offerta e quindi vendo questo immobile le vendite di questo tipo dal 2024 fanno scaturire la tassazione sul guadagno anche se io quel fabbricato lo possedevo da sei anni perché perché è stato disposto che io per non essere tassato dopo avere fruito del super bonus devo vendere dopo dieci anni dal fine lavori perché altrimenti in questo periodo di osservazione decennale se io vendo la mia seconda casa devo pagare e anche lì in quel caso dovrò sempre attuare quella scelta di cui parlavamo prima ho sempre la scelta o in dichiarazione dei redditi o in posta sostitutiva istantanea in atto del 26 per cento diciamo che la la cosa si complica ancora un pochino e va un attimino a penalizzare i contribuenti che hanno usufruito del super bonus adottando la strada dello sconto fattura e o della cessione del credito cioè in pratica hanno ricevuto le fatture per la ristrutturazione da parte delle imprese però per effetto del fatto che la norma lo consentiva hanno o pagato il fornitore e poi ceduto il credito a terzi banca assicurazione o imprese oppure hanno ottenuto sconto fattura dall'impresa che aveva fatto la fattura quindi i soldi in concreto non li hanno tirati fuori qui c'è la mazzata ulteriore diciamo per il contribuente che vende perché se l'intervento è concluso da non più di cinque anni e io che ho la mia seconda casa e la voglio vendere ho usufruito di sconto fattura o cessione dei crediti e quindi lo stato mi dice ma tu i soldi non li hai tirati fuori se vendo prima del decorso dei cinque anni dal fine lavori questi costi queste fatture che io avevo ricevuto non non le posso includere nel conteggio del guadagno vuol dire che è come se io non avessi ricevuto quelle fatture torniamo all'esempio di prima l'avevo comprato a 100 mila giusto sostengo 60 mila euro di spese super bonus la vendo a 200 mila quindi 160 di spese incasso dalla vendita 200 se io uso fruito di sconto fattura e il fabbricato lo vendo prima del cinque anni dal fine lavori allora il mio guadagno sarà stato 200 meno 100 100 mila e pagherò il mio 26 per cento di imposta sostitutiva su 100 mila pagherò 26 mila euro di imposta da notaio se io vendo dal quinto anno al decimo anno lo stato mi concede di utilizzare una parte di queste fatture per cui ho fruito di sconto o cessione del bonus per cui me ne condona diciamo me ne regala la metà se io ho speso 60 mila euro per fare la ristrutturazione potrò tenere conto ai fili della tassazione sulla vendita di 30 mila euro quindi il mio guadagno sarà 200 di incasso meno 100 di spese di acquisto meno 30 di spese concesse per cui io pagherò invece che su 100 pagherò il 26 per cento su 70 vorrei segnalare un elemento se invece io contribuente non mi sono fatto fare sconto fattura non ho ceduto il credito mi sono portato in detrazione in dichiarazione il super bonus quei 60 mila euro di spese li posso conteggiare ne posso tenere conto perché io quelle spese le ho tirate fuori le ho pagate è un altro elemento che vorrei segnalare per non diciamo spaventare no tutta la larga platea di contribuenti che possono avere fruito di bonus in questi anni e che questa novità riguarda solo le vent le vendite di immobili sui quali si è fruito di super bonus se si è fruito di ecobonus recupero patrimonio edilizio quindi si è parlando di cifre di detrazione del 50 del 65 per cento io non ho problemi di monitoraggio dei dieci anni dal fine lavori lo praticamente vengono colpiti tra virgolette solo i soggetti che hanno fatto fare interventi super bonus e poi vendono molto bene paola quindi ok quello che abbiamo detto riguarda il 110 per cento super bonus direi molto chiaro e quindi grazie anche del degli esempi questo mi fermerei ancora un attimo al all'argomento diciamo edilizio per fare un cenno a una novità su un argomento che è già ricorrente dal 2010 che intendo dire che proiettato così è un po' criptico come la slide è un po' criptica sto parlando dei cantieri in cui i committenti i proprietari dei fabbricati fruiscono di detrazioni edilizie di cui parlavamo prima ecobonus sisma bonus super bonus e ricevono le fatture dalle imprese che effettuano i lavori che possono essere i muratori le imprese edili i serramentisti in le imprese che fanno gli impianti elettrici e idraulici e fanno i bonifici a queste imprese utilizzando il cosiddetto bonifico parlante cioè specificando nel bonifico la legge di rimando alla detrazione e in questo modo avviene che quando il bonifico arriva all'impresa che incassa l'impresa la banca verso la quale l'impresa al conto corrente trattiene una piccola piccola una quota di questa fattura a titolo di ritenuta da conto il sistema il conteggio è un conteggio fisso perché la banca non può sapere ad esempio che all'iquota iva è stata emessa quella fattura perciò se io ho una fattura pagata di 10 mila euro dal committente all'impresa edile artigiana la banca si vede arrivare 10 mila euro fa uno scorporo fisso del 22 per cento e applica una trattenuta dell'otto per cento fino a oggi oggi 29 febbraio lo preciso perché da domani cambierà da domani invece di essere l'otto per cento sarà l'undici per cento e se noi andiamo di nuovo alla fatturina di 10 mila euro sembra poco un 3 per cento ma in realtà è tanto perché se l'otto per cento prima fino oggi ammontava 650 euro da domani sarà 900 euro quella è stata attenuta e faccio presente che quindi i bonifici per esempio effettuati oggi verranno accreditati domani che poi già il primo marzo quindi la il giorno cui si fa riferimento per applicare la ritenuta sarà il giorno del concreto accredito quindi purtroppo questi bonifici del 29 entrando nel conto dell'impresa il primo marzo avranno già subiranno già questa nuova ritenuta dell'undici per cento poi a titolo giusto così di conoscenza volevo anche solo precisare queste sono ritenute d'acconto che quindi poi vengono sommate durante tutto l'anno e tutto questo bidoncino di ritenute verrà utilizzato per scalare le imposte nella dichiarazione dei redditi che viene fatta nel luglio dell'anno successivo quindi la ditta individuale scalerà questo bidoncino di ritenute dall'IRPEF dovuta la società di capitali scalerà le ritenute che ha subito durante l'anno dall'IRES dovuta in dichiarazione dei redditi mentre la società di persone così come ripartisce il reddito ai soci ripartisce queste ritenute nella stessa percentuale di partecipazione agli utili ai soci e i soci si scaleranno queste ritenute dalla loro IRPE nella loro dichiarazione dei redditi questo è giusto per completare il giro. Paola colgo l'occasione anche per ricordare ai partecipanti che ecco non riusciremo magari tutti gli argomenti a entrare così a fondo c'è comunque la possibilità di fare delle domande nella chat che trovate in basso a sinistra e poi comunque ci saranno le nostre circolari o siamo a disposizione per per qualunque per qualunque chiarimento alla fine degli interventi ci saranno poi le mail o comunque avete le nostre mail potete assolutamente utilizzarle per per fare dei quesiti però già se avete se vi abbiamo soleticato su qualche dubbio potete fare una domanda nella chat e poi vedremo o qui o in altra serie di rispondere a tutti i vostri quesiti lo scopo di questo webinar è proprio di dare una carrellata generale su quelle che sono le particolarità di farvi accendere qualche lampadina e poi siamo a disposizione per entrare nel concreto e analizzare i vostri i vostri singoli casi. Prego Paola. Vado avanti e faccio un cenno a un'altra novità per la quale sia ancora in attesa di chiarimenti e questa è una novità che decorre dal 2024 ed è l'obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare entro fine di quest'anno una polizza assicurativa a copertura dei danni causati dalle calamità naturali quindi sisma, esondazioni, inondazioni, allagamenti, frane e alluvioni non vi non sono incluse cioè non devono adempiere le aziende agricole che fluiscono di un altro fondo già in essere un fondo mutualistico nazionale. Possiamo dire ciò che c'è di certo, cioè che i beni che dovranno essere assicurati sono terreni, fabbricati di proprietà delle aziende, macchinari, attrezzature, impianti. Si sa per certo che la franchigia non potrà superare il 15% del danno e che il mancato assolvimento di questo obbligo potrà causare l'impedimento per le aziende di accedere a sovvenzioni, a contributi, ad agevolazioni finanziarie. Quindi è un elemento molto dedicato. Ciò che deve ancora essere chiarito sono ad esempio su quale base dovranno essere calcolati questi premi assicurativi, quindi sul valore degli immobili allora bisognerà fare una perizia su questi immobili, idem sui macchinari, come bisognerà comportarsi. Quindi si attendono dei decreti attuativi e comunque dei provvedimenti che in realtà forse anche oggi che c'era un decreto in conversione doveva essere, poteva essere l'occasione, ma non so se poi è avvenuto. Certo Paola, diciamo che proprio su questo argomento molti di voi ci hanno sollecitato e hanno chiesto chiarimenti. E ancora devo dire tutto in sospeso. Il consiglio migliore che possiamo darvi è quello di rivolgervi al vostro assicuratore di fiducia, che sarà sicuramente la prima persona che sarà interessato e sarà informato su questo argomento. Quindi qui ci tenevamo solo a precisare gli aspetti principali che è un tema importante al momento e ancora in alto mare, come sicuramente anche i vostri assicuratori di fiducia vi potranno confermare. Bene, allora proseguirei sempre in ambito aziendale, solo per un piccolo chiarimento che è intervenuto nelle scorse settimane su un elemento importante tra i tanti in relazione al bonus Industria 4.0. È un bonus che conosciamo perché è stato introdotto dal 2019, quindi proseguirà fino a fine del 2025, salvo poi l'introduzione di altri bonus che sono già stati approvati e sono in corso di pubblicazione. Ciò che mi premeva evidenziare è il fatto che sulle fatture, su tutti i documenti che comprovano il bonus 4.0 deve risultare indicata la frase che vedete qui esposta, acquisto per il quale è riconosciuto il credito di imposta e poi gli estremi di legge. Sulle fatture, ma anche sui contratti, sugli ordini, su tutto quanto va a giustificare che quel bene è interconnesso e quindi dà il diritto all'impresa di fruire di questo credito che oggi è del 20%. Fino a poco tempo fa uno dei documenti sui quali era obbligatorio apporre questa frase era anche il documento di trasporto, quindi la cosa era un po' più macchinosa perché i documenti di trasporto sono un elemento, ce ne sono più di uno e quindi era un po' più difficile star dietro a questo elemento. Dicevo, a gennaio finalmente è stato chiarito che anche se sul documento di trasporto non è indicata questa frase, non si subisce la revoca del bonus, l'importante è che questa frase sia riportata sulla fattura sicuramente e che sulla fattura siano riportati gli estremi del documento di trasporto. Quindi viene fatta salva la non indicazione nel DDT. Poi può accadere che il fornitore che mette la fattura non la indichi questa frase. Tuttavia anche qui non è una cosa preoccupante perché la norma consente di stampare la fattura e di apporre questa frase con l'inchiostro indenebile e quindi anche se il fornitore non mette la frase nulla è perduto. Ricordo brevemente che bisogna appunto conservare in modo molto ordinato tutta la documentazione, le perizie che sono state fatte per dimostrare la bontà, il valore e la consistenza dell'investimento e anche, e questo lo vedrete bene anche in un circolare che a breve pubblicheremo sul nostro sito, che deve sempre esserci la continua interconnessione dei macchinari e il controllo da remoto. Quindi tutto ciò che fa sì che il macchinario sia targato 4.0 deve essere estraibile ed esumibile dai software che sono legati al macchinario praticamente in qualsiasi momento in caso di un eventuale controllo, diciamo. Giusto Paolo? Molto bene, assolutamente questo è importante perché ho usufruito dell'agevolazione 4.0, quindi mi sono dedotto molti più costi, quindi devono mantenere quelle condizioni, occorre mantenere quelle condizioni durante tutta la durata dell'utilizzo del macchinario, quindi dell'attrezzatura. Quindi questo è fondamentale. Grazie Paola per averlo ricordato. Ed è, bisogna anche fare attenzione al fatto, perché poi si rischia di dimenticarselo un po', che il macchinario sul quale si gode del bonus non deve essere venduto prima praticamente di tre anni, perché altrimenti se non viene sostituito con un macchinario di pari o superiore, diciamo, tecnologia, il bonus viene revocato e deve essere restituito. Quindi questo è un elemento che è molto importante. Poi, come segnalavo prima, è stato approvato dall'altro ieri un nuovo decreto che promuove un credito d'imposta, diciamo, per la transizione 5.0 e promuove gli investimenti che andranno a ridurre i consumi energetici e porteranno, diciamo, a una transizione green delle imprese. Si tratterà, presumibilmente, perché manca l'ufficialità, di un credito d'imposta a scendere man mano che aumenta l'entità dell'investimento e, a differenza del bonus che conosciamo già, probabilmente metteranno una data di scadenza entro la quale dovrà essere utilizzato il bonus. Quindi ci saranno delle caratteristiche un po' diverse e però credo che questo bonus qua che conosciamo adesso, di cui abbiamo parlato, continuerà comunque fino a 2025 perché non tutti gli investimenti credo che rientreranno nella transizione 5.0. Quindi conviveranno probabilmente in questi due anni. Paolo, se sei d'accordo, passerei all'argomento successivo. Diciamo che i prossimi tre argomenti sono argomenti che ci impegneranno nella prossima stagione primaverile, estiva, in concomitanza anche con le dichiarazioni dei redditi e alcune sono delle novità e altre sono delle riproposizioni di agevolazioni già di altri anni precedenti. Il primo è la proposta praticamente di regolarizzazione del magazzino. Si parla del magazzino facente riferimento al 1 gennaio 2023 per i soggetti solari, cioè che chiudono l'anno 1 gennaio 31 dicembre. In pratica sono le rimanenze finali al 31 dicembre 2022. Cosa succede? Paola, scusami se ti interrobo, se sei d'accordo, qui proprio per cercare di semplificare il più possibile, andrei subito a fare degli esempi numeri, pratici, e qui ecco è sempre la cosa che è più di immediata comprensione. Sì, giusto per dire qui, poi passo velocemente oltre, che non tutte le rimanenze possono essere regolarizzate, ma si regolarizzano i beni in magazzino, quindi merci, materie prime e semilavorati. Ci sono due strade che possono essere seguite, cioè quando a bilancio le rimanenze indicate sono più alte o più basse rispetto a quelle che erano le rimanenze effettive in magazzino, come dicevamo prima, al 31 dicembre 2022. Io potrei avere il caso di voler fruire di questa possibilità, di questa sanatoria, eliminando una parte di rimanenze che ho a bilancio, perché la mia consistenza di magazzino effettiva, concreta, al 31 dicembre 2022 era minore. Paola, scusami se ti interrompo, ma voglio solo precisare questo che può essere capitato in alcune situazioni che il bilancio, le rimanenze del bilancio non siano state sopravvalutate rispetto a quelle reali. Il fisco ne è consapevole e uno dice, ma come io aumento le rimanenze e pago più imposte. A volte è capitato proprio per voler presentare un bilancio assolutamente con un reddito, con un guadagno, per evitare che la banca o comunque gli istituti di credito o non mi dessero dei finanziamenti o mi peggiorassero le condizioni. Quindi il fisco è consapevole di questo aumento delle rimanenze per migliorare il bilancio e questo caso a cui si fa riferimento. Sì, in questo caso qua è un po' più costoso perché lo Stato mi chiede di versare l'IVA, dell'IVA che è in base all'aliquota media di tutta l'IVA applicata nel 2023. Per esempio, facendo riferimento, un'azienda che fa tutto al 22% di IVA dovrà applicare l'aliquota IVA del 22% al valore che è stato eliminato, che si intende eliminare, però un pochino rivalutato. Per cui bisogna applicare un coefficiente che ad oggi non è ancora stato pubblicato perché è un coefficiente di maggiorazione, di chiamiamolo di rivalutazione per il quale verranno pubblicate apposite tabelle nei prossimi giorni. Per esempio, se io avessi da eliminare 10.000 euro di valore di magazzino e supponendo che il coefficiente per la mia attività che pubblicheranno è 1,2 io dovrò fare 10.000 per 1,2 per il 22% e quindi verso questa prima cosa devo versare questa IVA. Poi non basta perché dovrò anche versare un'imposta sostitutiva e quindi a questo valore, diciamo questo valore in euro della rivalutazione di cui parlavamo prima, devo applicare una percentuale fissa introdotta dalla norma del 18% e questo per quanto riguarda l'eliminazione. Se io invece voglio fare il contrario perché in realtà il mio magazzino concreto era superiore a quanto io avevo in bilancio allora in pratica devo versare un po' di meno cioè verso solo il 18% del valore puro che vado a iscrivere senza nessuna rivalutazione perché poi che cosa succede? In realtà io faccio emergere un magazzino che poi dovrò vendere e quindi pagherò poi le imposte sulla vendita sulle fatture che farò per dismetterlo dal magazzino che ho voluto aumentare. Sul valore in più se io invece voglio aumentare di 10.000 perché in realtà ho 10.000 in più farò 10.000 per 18% 1800 queste imposte di cui vi parlavo devono essere versate a breve cioè in due rate una rata a luglio in dichiarazione dei redditi con le imposte il 50% e il 50% il 30 novembre con il secondo a conto imposte quindi la decisione di riallineare di fare questa sanatoria fiscale sulle rimanenze è da prendere praticamente tra poco quando dovremo fare i bilanci perché poi questo importo dovrà risultare nei bilanci che vengono chiusi dell'anno 2023. Dal punto di vista... Sede di dichiarazioni dei redditi affronteremo proprio durante l'incontro affronteremo proprio questo tema per chi sarà interessato. Andrei sul tema che è sicuramente ancora più caldo che è quello del concordato preventivo sul quale ecco non abbiamo ancora molte precisazioni però è sicuramente il tema più importante del momento. Quindi... Sì, è stato oggetto di più diciamo dibattimenti nel corso dell'autunno-inverno e finalmente ha visto la luce a inizio febbraio. In pratica il concordato preventivo biennale cioè che prende l'anno 24 e l'anno 25 che cos'è? Un contratto in definitiva che viene sottoscritto con l'agenzia delle entrate da parte delle imprese con il quale ci si impegna praticamente a versare le imposte su un reddito che viene fissato già ora viene già predeterminato. È un accordo sul quale in questo caso qua ci sono casi in cui non si può rientrare quindi ci sono anche delle cause di esclusione poiché le grandi aziende ad esempio che non applicano già gli studi di settore perché hanno ricavi superiori a 5.165.000 euro non potranno accedere a questo concordato. La questione è appunto che una volta fissato questo reddito qualunque sull'eventuale eccedenza di reddito che venisse effettivamente conseguita non si verseranno imposte perché l'imposta è già stata fissata. Per stare nel sintetico come si articolerà da qui all'autunno la questione l'agenzia delle entrate entro il 15 giugno 2024 metterà a disposizione un software tramite il quale chiederà alle aziende di indicare, di compilare dei dati quindi questi dati saranno diciamo a oggi non sono ancora conosciuti quali saranno richiesti si presume che siano relativi all'ultimo anno diciamo 2023 l'azienda quindi dovrà compilare tramite lo studio questi dati fornire informazione all'agenzia delle entrate l'agenzia delle entrate incrocia questi dati con le banche dati che ha già a disposizione e elabora una proposta che sarà messa a disposizione del contribuente non ci sono dei tempi attualmente dei tempi intermedi in cui dovranno avvenire tutti questi eventi l'unica data che si sa al momento è la data limite per prendere la decisione di accettare o rifiutare il concordato preventivo è il 15 di ottobre per cui sicuramente prima si compilano questi dati più tempo poi si avrà per ponderare la proposta che si riceverà dall'agenzia delle entrate questo è in sintesi il contenuto c'è da dire che possono rientrare possono partecipare a questo accordo anche i contribuenti forfettari ma solo per l'anno 2024 e non quindi per due anni e nel caso particolare ad esempio di società di persone in definitiva la proposta di concordato si ribalta sui soci perché viene fissato il reddito per la società di persone ma poi la società di persone questo reddito lo ripartisce ai soci e quindi deve essere ben ben calibrato e ben ponderato un'altra esclusione ad esempio dalla proposta di concordato è per le aziende che hanno dei debiti tributari relativi a 2023 scaduti superiore ai 5000 euro quindi quello è un altro diciamo un altro caso in cui non si potrà partecipare poi ad esempio mancano ancora dei decreti e dei chiarimenti da parte del fisco perché come dicevamo prima non si sanno ancora quali saranno i pacchetto dati che verrà richiesto alle aziende in più sicuramente verranno individuate delle cause o dei gravi motivi per i quali un'azienda accetta ma poi può anche appunto per gravi motivazioni poter uscire dal concordato senza dover subire delle gravose sanzioni perché anche se si è in un momento magari di crescita di reddito se poi durante il bienio di concordato succede qualche evento che fa sì che il reddito crolla è giusto che ci sia la ricorrenza di poter uscire dal concordato perché altrimenti si pagano le imposte su un reddito che è stato prefissato magari molto più alto bene Paola si direi che si attendono molti chiarimenti e tengo che faremo poi un webinar più avanti specifico proprio su questo tema perché è davvero importante la cosa principale sarà capire quale sarà la proposta individuale che il fisco farà ai contribuenti ci si aspetta che sia una proposta a rialzo rispetto al reddito comunicato nel 2023 quindi la prossima dichiarazione di redditi vedremo tenuto conto anche di quelli che poi saranno definiti meglio i vantaggi dall'adesione di questo concordato preventivo rimandiamo a prossime circolari e sicuramente anche un webinar che faremo proprio su questo argomento vado dunque all'ultimo argomento diciamo che non è una novità ma è più una riproposizione di un'opportunità per i contribuenti cioè la rivalutazione di terreni e partecipazioni non in regime di impresa quindi è una possibilità che può essere fruita da persone fisiche soggetti privati e da società semplici perché appunto non sono società commerciali in cosa consiste che si possono rivalutare terreni e partecipazioni in società possedute almeno all'1-1 2024 e se un contribuente ad esempio possiede Paolo facciamo un esempio possiede una partecipazione in una società che aveva acquistato anni e anni fa se prevede o valuta di fare una vendita per esempio con questo sistema può valutare può ponderare di fare una perizia che dovrà essere asseverata tassativamente entro il 30 giugno 2024 che andrà a in questa perizia verrà in pratica scritto il valore odierno di questa partecipazione e questo soggetto pagherà il 16% di imposta sostitutiva sul valore di perizia non sulla differenza di valore tra quello pagato al tempo e quello di perizia ma sul totale e verso questa imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2024 o in tre rate annuali sempre giugno 24, 25 e 26 quindi praticamente il senso della cosa sarebbe io rivaluto al prezzo più vicino possibile a quello che è l'ipotesi dell'importo di vendita di modo che poi non pagherò sul guadagno che ho dalla vendita guadagno che poi viene tassato al 26% questo è in sintesi il concetto della rivalutazione molto bene grazie Paola stiamo parlando delle quote e dei terreni edificabili edificabili che ecco su questo poi è arrivata anche una domanda e quindi magari Paola ti chiederei di smarcare subito l'argomento è sempre conveniente la rivalutazione dipende perché diciamo che bisogna fare proprio un calcolo matematico di convenienza con i casi specifici se se io non rivaluto pagherò poi al momento della vendita e quindi pagherò questo facciamo l'esempio sempre dell'accessione della partecipazione pagherò il 26% ma solo su guadagno mentre invece il 16% lo pago su tutto il valore quindi dipende proprio un po' dagli importi io adesso faccio un esempio con i numeri piccoli però almeno abbiamo un po' l'idea se io ho comprato a 10.000 e poi rivaluto do un valore perché penso di vendere a breve e penso di vendere a 20.000 quindi faccio fare una rivalutazione a 20.000 vuol dire che pagherò il 16% di imposta sulla rivalutazione su 20.000 cioè tirerò fuori 3.200 euro di imposta sostitutiva l'accessione è a 20.000 è vero che io non pago più sul guadagno perché mi sono già allineato al prezzo di vendita con la perizia di rivalutazione se io non avessi rivalutato però avrei pagato il 26% solo sulla differenza tra 20 e 10 quindi avrei pagato 2.600 euro e quindi in questo caso qua io se non avessi rivalutato avrei pagato di meno direi che la risposta proprio è quindi dipende è per questo che è giusto secondo me che poi quando c'è l'idea è bene farsi coadiubare a fare questi tipi di ragionamenti molto bene grazie mille Paola di questa acquida carrellata sugli argomenti principali della legge di bilancio poi ce ne sono molti altri seguite le nostre circolari leggete le circolari che sono sul sito del setconsul www.setconsul.it poi qui ci sono i riferimenti diretti di Paola o del nostro studio quindi a cui potete rivolgere quindi grazie Paola allora interrompo la mia condivisione così lascio spazio bene Elena grazie adesso invece a te la novità giustravoristiche che impattano quindi le buste paga e il rapporto con i lavoratori dipendenti eccomi dunque anche come come spesso succede da ormai molti anni anche dal punto di vista giustravoristico la legge di bilancio ha portato numerose novità alcune sono già note nel senso che sono magari delle riproposizioni di istituti che erano già intervenuti negli anni scorsi e sono stati appunto prorogati per quest'anno comunque vediamo questa sera di fare una carrellata delle principali novità che ci aspettano in questo 2024 la prima è come dicevo prima una riproposizione di un istituto che era già conosciuto è già stato conosciuto negli anni negli anni scorsi e si parla dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti e si tratta in parole povere di uno sconto sui contributi IMS che i lavoratori dipendenti ricevono direttamente in busta paga e che è commisurato all'imponibile previdenziale in particolare per l'anno 2024 è stato precisato che questo sconto ammonta al 7% dell'importo dei contributi se l'imponibile non supera i 1923 euro ammonta invece al 6% se l'imponibile mensile va dai 1923 ai 2692 euro sopra i 2692 euro di imponibile non si ha diritto a alcuno sconto questa impostazione è stata presa pari pari dal 2023 con l'unica novità è che quella che non si applica sulla tredicesima mensilità quindi verrà applicato su tutte le buste paga per ogni mese di calendario diciamo ma non sulla tredicesima mensilità mentre l'anno scorso la riduzione spettava anche sugli importi della tredicesima mensilità su questo aspetto è bene precisare che si tratta di una agevolazione che ha natura mensile quindi è possibile che un mese il lavoratore abbia diritto all'agevolazione al 7 o al 6% a seconda del suo imponibile e che il mese successivo per magari l'erogazione di un premio o qualsiasi altro motivo che vada ad aumentare il suo imponibile previdenziale non abbia più diritto a questa agevolazione il lavoratore quindi perde l'agevolazione esclusivamente per quel mese lì il mese successivo si farà di nuovo la verifica sull'imponibile di quel singolo mese se dovesse rientrare nuovamente entro i limiti della norma avrà nuovamente applicata la riduzione contributiva andando avanti vediamo un altro istituto molto interessante peraltro per sia i lavoratori dipendenti che anche per i datori di lavoro che è stato un po' ripreso dagli anni precedenti si tratta dell'impostazione per l'anno 2024 di nuovi limiti di esenzione per il fringe benefit ormai sono diversi anni in particolare dal periodo covid dal 2020 che annualmente il legislatore mette mano alla normativa sul fringe benefit senza mai però toccarla a livello strutturale quindi ogni anno fa una modifica che vale sempre solo per quell'anno lì e così è stato fatto anche per il 2024 la normativa base dice che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti o dei servizi fino a 258 euro e 23 per singola persona per singolo dipendente per ogni anno quindi questa è la norma strutturale che c'è sempre per quest'anno il legislatore è intervenuto modificando questo limite in particolare innalzandolo e ha impostato due soglie diverse una prima soglia è riservata alla generalità dei lavoratori dipendenti quindi per in generale tutti i lavoratori dipendenti la soglia del fringe benefit è aumentata a 1000 euro all'anno la seconda soglia è riservata ai lavoratori dipendenti con figli a carico ai quali spetta un innalzamento della soglia di fringe benefit fino a 2000 euro novità riguardo non è una novità nel senso che c'era già l'anno scorso all'interno del fringe benefit innalzato con queste con queste soglie rientrano anche le somme erogato rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche quindi parliamo delle bollette di gas luce e acqua questa possibilità quindi va ad aggiungersi a quella che è la normale erogazione del fringe benefit cioè la cessione di beni il fringe benefit per eccellenza più diciamo più utilizzato è quello relativo all'auto a uso promiscuo però ecco unitamente a tutta tutta questa serie di fringe benefit si può per quest'anno anche rimborsare il pagamento delle bollette delle utenze domestiche sia per la generalità dei lavoratori dipendenti sia per i dipendenti con figli a carico scusami se ti interrompo quali possono essere altri fringe benefit che vengono utilizzati in questi casi e qual era il limite dell'anno scorso del 2023 l'anno scorso il limite era stato innalzato solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico ed era 2000 euro mentre i lavoratori dipendenti senza figli a carico avevano la la soglia ordinaria quindi 258 euro e peraltro non potevano ricevere il rimborso delle utenze domestiche mentre quest'anno è stata innalzata la loro soglia quindi fino a 1000 euro sono stati inclusi nella platea dei lavoratori a cui si può rimborsare anche le utenze domestiche altri tipi di fringe benefit appunto rientra nel fringe benefit tutto quello che è una cessione di beni o servizi ad esempio banalmente il pacco natalizio che viene consegnato dovrebbe essere calcolato come un fringe benefit o più utilizzati magari sono le schede carburante le schede le tessere per la spesa i buoni di qualsiasi tipo tutto quello che è un bene ceduto al dipendente diciamo un po' il bello del fringe benefit è quello che a differenza del welfare aziendale può essere erogato ad persona ma quindi a discrezione del datore di lavoro può erogare beni servizi entro questo massimale ai lavoratori che decide lui quindi non a tutti ma anche solo a qualcuno esatto novità del 2024 è che oltre la possibilità di rimborso delle utenze domestiche è anche stata data la possibilità di rimborsare le spese dell'affitto della prima casa e gli interessi sul mutuo relativo all'acquisto sempre della prima casa quindi oltre a aver diciamo innalzato la soglia di esenzione è stata anche ampliata il paniere di servizi di beni che possono essere erogati sotto questa forma attendiamo anche qua ancora delle precisazioni da parte dell'agenzia delle entrate per quanto riguarda diciamo la la questione relativa ai figli a carico e la questione relativa alle bollette alle utenze domestiche siccome la riproposizione della norma è proprio uguale a quella dell'anno 2023 si pensa che si possa utilizzare le precisazioni già fornite per l'anno 2023 per quanto riguarda ad esempio l'affitto della prima casa il rimborso dell'affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo siccome sono novità prudenzialmente si aspettano istruzioni da parte dell'agenzia delle entrate un'altra novità della legge di bilancio che grande novità non è ma è una riproposizione anche qui di un istituto che era già stato introdotto nell'anno 2023 riguarda la detassazione del lavoro notturno e festivo nel settore turistico alberghiero io ho inserito questa dicitura perché così è stata sponsorizzata diciamo la norma sui social insomma sui canali di informazione in realtà non è propriamente una detassazione si tratta in particolare della possibilità per i lavoratori dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del comparto turismo compresi gli stabilimenti balneari di richiedere quello che è un trattamento integrativo speciale si tratta di una somma parametrata alla retribuzione delle ore di lavoro notturno e straordinario festivo prestata da ciascun dipendente nell'arco del periodo che va dal 1 gennaio al 30 giugno 2024 questa somma non concorre a formare il reddito in pratica come funziona la norma c'è un periodo di osservazione quindi dal 1 gennaio al 30 giugno 2024 si guarda quante ore di lavoro notturno o straordinario festivo il lavoratore ha prestato in questo periodo si prende l'importo della retribuzione lorda corrisposta per queste ore si applica la percentuale del 15% e si ottiene così l'importo che può aspettare al lavoratore a titolo appunto di trattamento integrativo speciale questo importo sarà esente da imposizione contributiva e fiscale e sarà erogato in busta paga dal datore di lavoro al lavoratore e il datore di lavoro lo potrà recuperare direttamente sul F24 nello stesso mese di erogazione non è un insomma un beneficio che spette in modo automatico ma deve essere richiesto con una esplicita richiesta da parte del dipendente che peraltro deve dichiarare al datore di lavoro di averne diritto e in particolare di aver avuto per l'anno 2023 un reddito inferiore a 40.000 euro anche anche qua aspettiamo ancora qualche informazione in merito da parte dell'agenzia delle entrate e dell'Inps ma appunto tanto al momento non sarebbe possibile erogarlo perché dobbiamo almeno far decorrere il periodo appunto di osservazione quindi se ne riparlerà dopo il 30 di giugno andando avanti la legge di bilancio ci ha portato una novità anche riguardo al congedo parentale anche questa è una novità esclusivamente relativa all'anno 2024 partiamo intanto facciamo un passo indietro e andiamo bene a identificare il campo di azione il congedo parentale ricordo che quel periodo di assenza dal lavoro spettante al padre o alla madre in occasione della nascita di un figlio o dell'ingresso in famiglia di un figlio adottivo che può essere usufruito entro i 12 anni di vita del bambino e che può essere indennizzato per un periodo massimo di nove mesi nove mesi proprio l'anno scorso c'è stato questo ampliamento del periodo del congedo parentale è stato disposto infatti che la madre abbia diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato il padre abbia diritto anche lui a tre mesi di congedo parentale indennizzato e ci siano ulteriori tre mesi che possono essere fruiti alternativamente tra il padre e la madre quindi se tutti usufruiscono del proprio congedo parentale si può arrivare a un complessivo di nove mesi tra entrambi i genitori sempre di congedo parentale indennizzato quindi questa la durata del congedo parentale che appunto era già stata così modificata l'anno scorso non ha subito variazioni rimane sempre questa che cos'è che ha subito variazioni la misura del congedo scusate la misura dell'indennità del congedo infatti normalmente il congedo è indennizzato da parte dell'Inps con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera già l'anno scorso era stato disposto che un mese di questi nove venisse indennizzato all'80% anziché al 30 la legge di bilancio ha ulteriormente innalzato a due i mesi di congedo indennizzati all'80% anziché al 30% la disposizione per il 2024 quindi la possibilità di avere due mesi di congedo indennizzati all'80% si applica per i lavoratori che abbiano terminato il periodo di congedo obbligatorio di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2023 anche qua aspettiamo in realtà delle indicazioni da parte dell'Inps più che altro per capire come possa il datore di lavoro poter riconoscere a cuore leggero diciamo l'indennizzo all'80% in luogo del 30% perché il datore di lavoro fa solo da tramite per questo importo perché è vero che lo eroga in busta paga ma questo importo è completamente a carico dell'Inps e quindi lo recupera anche qua sullo stesso mese di erogazione dai contributi che deve versare all'Inps il problema è quello che l'Inps non ha stabilito una domanda particolare da parte dei lavoratori che vogliono usufruire di questo congedo e quindi ha detto che per usufruire di questo congedo i lavoratori devono presentare la solita domanda di congedo parentale che si presenta tramite appunto la piattaforma dell'Inps oppure tramite un patronato il problema sta nel fatto che siccome questo congedo può essere utilizzato in alternativa tra i genitori ma solo nel limite sempre di due mesi il datore di lavoro dovrebbe sapere nel momento in cui eroga l'indennizzo all'80% che per lo stesso figlio l'altro genitore non ne abbia già usufruito al momento l'Inps non ha dato una risposta a questo problema proprio pratico di attuazione di questa normativa e quindi noi prudenzialmente consigliamo di farsi rilasciare comunque almeno una dichiarazione da parte del lavoratore o della lavoratrice che intendono usufruire del congedo all'80% in modo da essere certi che non ne abbia già usufruito l'altro genitore per terminare terminiamo con quello che è forse la norma più sulla bocca di tutti in questo periodo che è la decontribuzione delle lavoratrici con figli cosiddetto bonus mamme ho indicato anche qua il nome con cui questo istituto è stato conosciuto sui mezzi di informazione perché a volte si creano anche dei problemi di identificazione di quali sono i vari istituti ecco il cosiddetto bonus mamme che cos'è è la possibilità anzi il diritto che spetta le lavoratrici madri che abbiano un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato anche in apprendistato e anche part time sia nel settore pubblico che nel settore privato con esclusione solo dei rapporti di lavoro domestico di poter vedersi azzerati i contributi IMS a loro carico in busta paga quali sono i requisiti i requisiti sono che queste lavoratrici devono essere madri di tre o più figli e in questo caso il figlio più piccolo non deve avere ancora compiuto 18 anni oppure devono essere madri di due figli e il più piccolo in questo caso non deve avere ancora compiuto 10 anni questa seconda opzione è valida solo per il 2024 mentre il bonus mamma diciamo con tre o più figli varrà anche per il 2025 e per il 2026 non è un bonus che viene applicato di default ma serve una richiesta da parte della lavoratrice al datore di lavoro in cui deve comunicare i codici fiscali di almeno due figli a seconda della tipologia di requisito che vuole far valere questo esonero quindi abbiamo detto che con questa richiesta la lavoratrice ottiene l'azzeramento dei contributi IMS a suo carico trattenuti in busta paga per questo motivo questo tipo di bonus è alternativo alla riduzione dei contributi IMS al 6-7% che abbiamo visto in apertura quindi o si applica uno o si applica l'altro direi che ho cercato di fare un po' una carrellata delle principali novità che ci sono per qualsiasi maggiore informazione o approfondimento restiamo a disposizione anche noi abbiamo già affrontato alcuni temi anche nelle nostre circolari che sono disponibili sul sito www.elaboraconsul.it molto bene grazie Elena per questa tua trattazione di questi argomenti principali sono arrivate delle domande anche per te quindi ecco in questi pochi minuti che ci separano dalla fine ti volevo chiedere allora innanzitutto proprio relativo a questo ultimo tema che hai trattato sono mamma di tre figli il più piccolo ha 16 anni il più grande ha 23 lavora e vive fuori casa mi spetta il bonus mamma? allora la risposta è sì il bonus mamme a differenza del requisito dei figli a carico richiesto per l'innalzamento 2000 euro del fringe benefit il bonus mamme va solo a verificare la condizione appunto di mamma di due o più figli poi il fatto che questi siano a carico che risiedano con la lavoratrice non non c'entra nulla l'importante è che la lavoratrice appunto sia mamma di due o più figli e che il più piccolo nel caso della lavoratrice con tre figli abbia meno di 18 anni vuol dire che non deve avere ancora compiuto i 18 anni dico ancora una precisazione su questo tema è che il le variazioni che possono far venire meno il requisito si applicano a mese cosa vuol dire che ad esempio se io sono mamma di un figlio e mi nasce il secondo figlio nel mese ad esempio di marzo da tutto il mese di marzo a prescindere dalla data di nascita avrò la possibilità di avere applicato il bonus o quindi la decontribuzione quindi dal momento in cui scatta il requisito anagrafico del figlio che fa venire la che mi dà o mi toglie il requisito per accedere al beneficio si applica poi per tutto il mese molto bene grazie mille ti volevo ancora chiedere questa domanda che è arrivata l'incremento del fringe benefit si applica anche agli amministratori con compenso quindi ci riferiamo agli amministratori di SRL in particolar modo ma poi anche gli amministratori di SNC o di SAS con cedolino sì allora gli amministratori con cedolino hanno un reddito che in base al TWIR è assimilato a quello dei lavoratori dipendenti l'anno scorso per la normativa dell'anno scorso era stata precisata era stato precisato dall'agenzia delle entrate che l'innalzamento del fringe benefit era anche a disposizione degli amministratori o comunque dei percettori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per quest'anno non è ancora stata data nessuna informazione a riguardo peraltro la normativa parla precisamente di dipendenti quindi prudenzialmente noi io non l'applicherei la norma ma aspetterei magari una un chiarimento dall'agenzia delle entrate molto bene non mi risultano arrivati altri quesiti quindi non mi resta che ringraziare i partecipanti e ricordare che quando usciranno da questa da questo webinar ci sarà un questionario da compilare sul grado di soddisfazione se avete qualche qualche suggerimento ricordo sempre i partecipanti di questo webinar che riceveranno le slide degli interventi che sono stati svolti questo pomeriggio insieme al link della registrazione poi la registrazione sarà disponibile sul nostro canale youtube vi ringrazio Paola e Elena per questa chiara pratica e sintetica relazione rimandando poi a circolare di approfondimento direi che ormai quei webinar ci abbiamo ormai fatto la mano diciamo proprio prima che il primo che avevamo fatto era proprio durante il covid e questo è uno degli strumenti che è assolutamente positivi che il covid ci ha lasciato di raggiungere in maniera rapida chiara ed efficace i nostri i nostri clienti e la platea di oggi quindi grazie i partecipanti grazie a voi buona continuazione di serata e alle nostre circolari e ai prossimi webinar che organizzeremo nei prossimi mesi buon pomeriggio e a presto buona serata grazie bene paola allora direi che abbiamo esaurito gli argomenti brava paola sei stata davvero grazie a voi dell'opportunità complimenti e dai ci parliamo ci parliamo dopo a presto grazie ciao Elena hai già uscita forse Elena è già uscita sì 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 grazie grazie a tutti